L'uomo è un mendicante che crede di essere un re è il titolo del libro scritto in carcere dall'ex presidente della regione Sicilia, Toto Cuffaro, presentato ieri al Teatro Leschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla libreria Mondadori. Cuffaro ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scrivere l'assaggio. Nello stesso momento in cui le porte del carcere si chiudevano nelle mie spalle ho capito che era cambiata la mia vita ma che era cambiato l'uomo nel senso che da uomo ero diventato totapig che è una metafora ma dà il senso di come oggi lo Stato prima e poi purtroppo anche la società considera i detenuti. considera che siano dei corpi sino a quando lo Stato e la società non riuscirà a capire che il carcere non contiene dei corpi ma dentro ci sono delle anime io credo che sarà difficile risolvere il problema di umanizzare le nostre carceri. Io mi sono convinto che la politica non farà nulla sino a quando questo grido di umanità non venga dalla società. Cuffaro ha detto di avere commesso tanti errori nella sua vita ma mai quello di avere favorito la mafia. Ho la certezza di non aver mai voluto favorire la mafia di questo ne ho l'intima convinzione culturale prima che giudiziaria non credo che ci sia stata una volontà specifica nel colpirmi da parte della magistratura credo che purtroppo ci sono state delle condizioni diverse che intorno a me durante tutto il tempo mi abbiano voluto dipingere probabilmente in una maniera totalmente diversa qual è il mio carattere, qual è la mia storia, qual è la mia vita. Poi un breve accenno alla politica. Quelli che votavano per me adesso votano tutti i partiti ma la maggior parte di quelli adesso vota il PD se non altro perché è il PD che prende i voti che prima prendevo io. In Sicilia come altrove la classe dirigente si sposta insieme ai voti. Questa politica è ipocrita perché questa politica non ha il coraggio di prendersi le sue responsabilità e di dire all'interno e fuori dei partiti quello che pensa e quello che vuole e aspetta che ci sia qualcuno che lo dica per montare una polemica. Mi dispiace che qualcuno abbia voluto vederci una retrospettiva che non c'è, vi assicuro che non c'è soprattutto che qualcuno pensi che io voglia tornare in politica perché l'unica cosa certa è che non farò. Le chiedo il giudizio sull'attuale governatore Crocetta. Non parlo più di politica. Cuffaro parla anche del suo futuro. Il 30 maggio vado in Burundi a fare il medico volontario nell'ospedale che da presente alla regione avevo costruito o avevo fatto costruire con i soldi la solidarietà internazionale e starò sei mesi in Africa a organizzare quell'ospedale e a tentare di portare un pezzo di umanità siciliana in un posto dove credo ce ne sia di bisogno. Evento ormai istituzionalizzato alla Casa Circondariale con la donazione di libri e materiale didattico per chi vive qui. Sì, libri, materiale didattico, impegno, questo è un appuntamento che sarà a Foriero e ci auguriamo anche di altre cose. L'importante è non isolarsi. L'importante è essere accolti, accogliere, essere accolti e non isolarsi. Questo, ecco, partecipare. Come vengono valutate le letture da somministrare ai soggetti che vivono questa restrizione della libertà? Letture che devono incentivare a quello che è l'aspetto culturale che noi riteniamo che la cultura sia veramente la cosa più importante ai fini della repressione dei fenomeni di devianza. Questo rapporto con il Lions ed altre associazioni ci consentono di aumentare la percezione di sicurezza e quindi ci aiutano nel nostro lavoro. Come vivono i detenuti l'esperienza di un contatto col libro che certamente, o forse, probabilmente nella vita non hanno mai vissuto frequentemente come esperienza? Il libro, intanto, è un modo bellissimo per coltivare la fantasia e quindi consentire loro di avere questo contatto anche con l'esterno e con le storie che possono comunque incentivare anche la loro storia a modificarsi in base ai protagonisti dei libri. E poi è quello strumento bellissimo che loro veramente imparano a utilizzare che gli consente di non oziare dentro le celle e di utilizzare quel tempo della pena veramente al loro uso per progredire, per migliorarsi. Sono tutti strumenti che in qualche modo aiutano i detenuti a guardare oltre, a poter con la propria mente guardando oltre le mura, consentire di poter poi concretizzare i propri sogni, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni attraverso una manifestazione d'arte che può essere una pittura o anche semplicemente accompagnate alla lettura di un bel libro. Pensate di istituzionalizzare questo evento? Beh, diciamo che stiamo riflettendo molto su questa cosa, ovviamente non dipende da noi, solo da noi. Noi possiamo semplicemente proporla, ma se le istituzioni dovessero accompagnarci in questo nostro progetto saremmo ben lieti di poter fare la nostra parte. Un polo museale tra Gela e Piazza Almerina è l'obiettivo del comitato Gelensis Populus. Una richiesta formale è stata inviata alla regione siciliana in merito alla riorganizzazione delle strutture periferiche. Il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali in Sicilia prevede l'accroppamento delle strutture museali secondo, sottolinea Gelensis Populus, una sbrigativa operazione di perimetrazione territoriale semplicisticamente ricalcando i confini delle vecchie province. Questa operazione sarà probabilmente vanificata tra qualche mese a seguito dell'entrata in vigore della legge di modifica che ha già soppresso le vecchie province sostituendole con i liberi consorzi alle città metropolitane. La nostra proposta è quella che piuttosto che ridisegnare i confini dei poli archeologici solo sulla base di quelli che sono i confini delle ex province di tener conto appunto dell'identità storico-culturale. La proposta sarebbe quella di creare un polo che abbia una propria autonomia e che veda camminare, gela con i suoi beni culturali con Piazza Armerina, la villa del Casale tutto quello che è chiaramente nel comprensorio di Piazza Armerina. E chi dovrebbe dare una risposta immediata e positiva alla vostra richiesta? Questo programma di ridisegno dei poli archeologici dovrebbe trovare a breve il suo completamento con l'approvazione in giunta. Per cui noi abbiamo sollecitato l'assessore Arramo abbiamo inviato anche al Dipartimento regionale abbiamo anche sensibilizzato la Presidenza della Regione Sicilia perché riteniamo che adagiarsi sui vecchi confini delle province sia assolutamente anacronistico e non premi assolutamente quella che è l'identità culturale storica di Gela che storicamente con la creazione di un polo che vedrebbe premiato il territorio che si sviluppa attorno al fiume di Gela potrebbe vederci a fianco a Piazza Armerina. E dunque sarebbero dei vantaggi notevoli per la città? Chiaramente si potrebbe anche creare una sorta di circuito che vedrebbe con ad esempio il pagamento di un unico biglietto la possibilità di accedere ai siti sia di Piazza Armerina che di Gela. In un momento storico come quello che sta attraversando Gela con chiaramente la crisi che attanaglia l'intero territorio sotto vari aspetti un'attenzione e una sensibilità maggiore anche sotto questo punto di vista certamente ce l'aspettiamo, la pretendiamo e Gela lo merita. è venuta a trovarci Anna Salsetta Reduce da grandi successi la tua carriera è davvero un crescendo costellata di successi davvero molto interessanti che portano alto il nome anche della nostra città raccontaci di questa esperienza vissuta tra Sanremo e Monte Carlo Guarda, un'esperienza davvero importante e gratificante che mi lascia davvero tanta soddisfazione un'esperienza che credo porterò con me per tutta la mia vita ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi artisti a livello internazionale c'erano cantanti che arrivavano dalla Colombia dall'America, dalla Russia, dalla Bulgaria, dalla Romania quindi insomma anche a parte adesso la vittoria un confronto che mi ha fatto crescere e adesso le prossime iniziative Anna, collaborazioni raccontaci un po', noi siamo sempre molto curiosi e seguiamo le tue vicende artistiche con molto interesse ma soprattutto con grande affetto e amore allora la prossima tappa è il 4 aprile sono in partenza per Bucharest dove sarò ospite di un programma televisivo e Canoro e poi per il resto ho già firmato a Monte Carlo un contratto discografico e insomma sto già lavorando perché è nata una collaborazione con un artista a livello internazionale però di questo ne parlerò prossimamente Neanche contratto firmato, possiamo sapere il nome? Per adesso no però fra qualche mese ovviamente vi metterò al corrente di tutto E intanto un saluto in musica Anna per noi? vi faccio ascoltare un pezzettino del pezzo che ho portato con me a Sanremo Grazie, grazie a tutti i gelesi che mi hanno seguito e che mi hanno supportato perché sono stati tanti Fabiola, grazie In bocca al lupo Viva il lupo sempre Vertenza Gela, sviluppo ed occupazione i progetti da mettere in campo per risolvere la grave crisi occupazionale che interessa lo stabilimento gelese con i lavoratori dell'indotto in ansia per il loro presente ed il loro futuro Se ne è parlato oggi all'Otel Sileno nell'ambito di un incontro promosso dall'UGL I lavori sono stati aperti da Franco Dilano, responsabile UGL Gela presente tra gli altri Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici Paolo Capone, segretario generale nazionale UGL La preoccupazione che abbiamo veramente forte è legata soprattutto a quello che è l'andamento dei prezzi del petrolio sullo scenario internazionale che ai prezzi di oggi veramente diventa difficile produrre e questo vale per Gela, per le trasformazioni ma vale per tutto quanto il mondo, anche lo stesso mondo arabo Questa è una grande preoccupazione Insieme a questa preoccupazione abbiamo una preoccupazione invece più nostra che riguarda anche la Sicilia ma riguarda una vertenza Italia che secondo noi continua ad essere aperta che è quella della mancanza di politiche industriali non si sono fatte politiche industriali negli ultimi tre anni non c'è un'indicazione, non c'è un destino per questo paese quindi andiamo dal petrolchimico e dall'abbandono per esempio della Versalis e della chimica da parte di Eni andiamo a quella che è tutta la vertenza dell'Ilva ma andiamo a una desertificazione industriale che sta colpendo il sud ma anche il nord e quindi su questo siamo molto preoccupati Luigi Ulgiati, segretario generale nazionale UGL Chimici sottolinea che la situazione a Gela come nel resto del meridione d'Italia è preoccupante La prossima settimana, il 24, abbiamo un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico dove cercheremo di fare il punto e cercheremo di dare quelle risposte che ormai questo territorio si aspetta qui non si tratta soltanto di far ripartire il polo industriale, il polo chimico quindi la raffineria e quindi far partire i lavori per la Green Refinery si tratta proprio di dare delle risposte ad un indotto che deve in qualche modo dare delle speranze ai cittadini di Gela Giovanni Condorelli, segretario confederale nazionale politiche del mezzogiorno Noi siamo presenti ai tavoli per le vertenze più spinose che purtroppo stiamo vivendo in questo momento dall'Ilva all'Eni ad altre problematiche che affliggono il meridione dal quale purtroppo non si riesce a risalire a riprendere quella strada della crescita che non esiste ecco perché noi diciamo a Renzi non so in quale paese vive perché noi viviamo tutti i giorni la crisi le difficoltà dei lavoratori e cerchiamo di portare avanti con la nostra presenza anche oggi qua a dei massimi vertici del sindacato in dando la vicinanza ai lavoratori ma soprattutto di portare delle proposte ai tavoli prossimamente per dire che questo stato di crisi perenne non può più continuare Franzone, un atto congiunto per diffidare i soggetti che ritenete responsabili della mancata attuazione del trasferimento del comune di Gela nell'ambito del libero consorzio della città metropolitana di Catania da chi è stato firmato l'atto e che cosa chiedete? L'atto è un atto stragiudiziale di diffida ed è stato fatto nei confronti dell'assessore Lantieri nei confronti di Crocetta nei confronti del presidente Ars Ardizzone l'atto non è altro che un richiamo ufficiale per queste personalità per il grave ritardo con cui ancora oggi dobbiamo fare i conti del passaggio di Gela, Piazza Emilia e Niscema alla città metropolitana di Catania questo ritardo comporta un danno anche economico per queste comunità perché non possono pianificare insieme agli altri comuni insieme agli altri territori il loro futuro nel contempo la regione siciliana nel pianificare i servizi ci ricomprende con le vecchie province quindi oltre al danno morale nei confronti di chi si è espresso e quindi parliamo delle popolazioni delle amministrazioni dei consigli comunali c'è anche un danno economico e questo non è più tollerabile a distanza di tre mesi dall'ultimo delibere dallo scadere alla legge attendiamo ancora oggi il disegno di legge per il passaggio alla città metropolitana di Catania Franzone, chi ha firmato la diffida? La diffida è stata firmata oltre che dei presidenti dei quattro comitati di Gela, Piazza Emilia e Niscemi è stata firmata anche dei sindaci di Gela di Piazza Emilia e di Niscemi credo che i tempi si stiano allungando troppo questo è un grido di allarme che faccio io ma lo fa anche Niscemi lo fa anche la Gela perché i diritti dei cittadini vanno assolutamente tutelati soprattutto alla luce proprio di questa dell'attuazione in Italia in tutta Italia della legge del Rio non capiamo come la regione Sicilia ancora stia tentennando e siamo sempre gli ultimi siamo partiti i primi ma siamo sempre gli ultimi io sono stato sabato ad un convegno ed Enzo Bianco diceva proprio una cosa importantissima stiamo perdendo un treno ed è una cosa gravissima Torino è la città metropolitana che già ha legiferato sta volando Catania nella fattispecie noi siamo con Catania ma anche le altre città metropolitane della Sicilia quindi parlo di Palermo parlo di Messina ma tutti liberi consorsi ancora non abbiamo assolutamente un quadro normativo chiaro e limpido non si capisce il perché come tutte le cose siciliane debbano avere questi percorsi strani e noi non stiamo facendo altro che sollecitare con questa diffida con questo momento strano perché si parla di consorsi si parla di città metropolitane ma ancora oggi non si sa nulla e non si fa nulla è stata inaugurata questa mattina al Museo archeologico regionale di Gela la mostra e vento la nave greca di Gela per l'occasione sono state aperte le casse contenenti i reperti linee i più significativi del relitto greco arcaico a seguito del restauro avvenuto in Inghilterra e gestito dalla sovrindendenza dei beni culturali di Caltanissetta sono stati esposti alcuni oggetti appartenenti alla nave recuperati nelle ultime campagne di scavo attraverso un'esposizione che descrive la vita di bordo lavori a bordo e sulla nave ora il futuro sarà quello di cercare al più presto di poterli esporre al pubblico montati cioè rimontare la nave dare l'opportunità al fruttore all'utente al turista a noi stessi di poter ammirare la nave nella sua non interessa perché non è intera però montata e con gli opportuni accorgimenti si potrà capire come era fatta e quindi avere un'idea precisa di questa imbarcazione così importante per la città di Gela adesso però i cittadini chiedono altro chiedono di poterla vedere quantomeno montata per poter accogliere turisti che tempi ci vorranno e come vi organizzerete la mostra si chiama Eoploia Eoploia significa buon viaggio questo è stato fino ad ora un lungo viaggio molto tortuoso speriamo in auspicio che prossimamente sarà veramente un buon viaggio i tempi quali sono quelle da un lato che si devono dare incarichi per studiare e di musealizzare la nave sia per cercare di rimontarla ma anche per dare tutte quelle informazioni possibili per avere una fruizione corretta della nave dall'altra speriamo che parta almeno il primo lotto per realizzare questo museo delle navi che ci troviamo alle spalle e nel frattempo abbiamo proposto secondo lotto per la realizzazione di tutta l'opera eccetera che tempi che abbiamo il primo speriamo nel giro di un anno un anno e mezzo di completarlo e finalmente la nave avere la definitiva collocazione l'altro non so rispondere perché non appartiene a me la competenza si fermano i dipendenti Eni è la terza volta in poco più di due mesi oggi otto ore di sciopero che interessano uffici ed impianti produttivi in Italia una delegazione giolese è a Roma assieme ai segretari provinciali del settore chimico di Firctem Femca e Wiltec no alla prospettiva di uno forte ridimensionamento del gruppo Eni in Italia e sì ad una politica industriale del gruppo al fine di rilanciare il ruolo di Saipem nel mercato energetico e infrastrutturale i sindacati si dicono contrari alla strategia di Eni di consolidare ed estendere la propria attività fuori dall'Italia e ridimensionare il perimetro delle attività domestiche e oggi si tin anche dinanzi ai tornelli dello stabilimento gelese erano in pochi a dire il vero solo una ristretta rappresentanza il nostro presidio fa parte diciamo di un una manifestazione che è nazionale quindi significa anche negli altri siti hanno penso hanno manifestato e questo è contro la politica dello Stato è contro Eni che non vuole investire e a favore del Sud che è sempre insomma dimenticato dalla politica e in questo caso da Eni siamo stanchi di stare sempre per strada e quindi diciamo piano piano non siamo rassegnati lotteremo fino alla fine però diciamo che siamo stanchi di stare per il nostro lavoro in mezzo alla strada a chiedere i nostri diritti per la salute per il rispetto del lavoro e per i nostri cittadini perché così Gela è destinata a sparire aspettiamo questa risposta da Roma appunto per sapere se Leni cosa decide di fare se investire a Gela oppure diciamo abbandonare il territorio a se stesso voi soltanto adesso in attesa di buone nuove dalla capitale sì siamo in attesa appunto i nostri colleghi sono andati a manifestare oggi a Roma per avere delle notizie più certe su quello che è convoltante su quello che vuole fare qua a Gela che è già ne ha di fare a Gela il 24 febbraio andiamo tutti a Roma è l'appello lanciato dal movimento spontaneo dei lavoratori in vista dell'importante incontro che si terrà al ministero dello sviluppo economico in merito all'avvertenza a Gela l'appello è stato rivolto alla sindaco all'amministrazione a tutto il consiglio comunale ai segretari confederali e di categoria e agli imprenditori gelesi per cercare di organizzare dei pullman al fine di raggiungere la capitale il 24 febbraio prossimo è una data importante sul tavolo del confronto infatti c'è il futuro industriale di Gela si parlerà della riconversione green della raffineria dovrà essere messo nero su bianco su quello inoltre il protocollo d'intesa siglato il 6 novembre del 2014 chi ha preso degli impegni con i lavoratori sostiene il movimento spontaneo deve portarlo a compimento il movimento spontaneo dei lavoratori inoltre sottolinea il disinteresse riscontrato ad oggi da parte di tutto il consiglio comunale che doveva indire una riunione con i sindacati con gli imprenditori con i commercianti per organizzare la partenza per Roma per lo stesso movimento spontaneo ci sarebbe in atto un boicottaggio da parte di qualcuno per interessi strettamente personali intanto i lavoratori dell'indotto hanno scritto una lettera al presidente della regione siciliana il gelese Rosario Crocetta in cui lo esortano a non dimenticare il dramma che stanno vivendo ci sono lavoratori scrivono che da diversi mesi sono rimasti senza percepire alcun reddito come manteniamo le nostre famiglie pagare tasse mutui beni di prima necessità ognuno di noi rischia di perdere ciò che ha costruito con tanti sacrifici eppure sottolineano non si doveva perdere alcun posto di lavoro vogliamo riprenderci la nostra dignità che qualcuno ci ha tolto vogliamo essere uomini liberi non vogliamo continuano politiche al sostegno della povertà cassa integrazione o mobilità abbiamo bisogno di risposte immediate non a tavoli istituzionali che vanno avanti da mesi presidente Crocetta ribadiscono ancora è facile dire che non ha il potere di cambiare le cose noi lavoratori pensiamo e siamo convinti che lei il potere ce l'abbia come pure una grande responsabilità politica quella di rimettere in piedi questo paese che continua ad essere vittima delle contraposizioni politiche che vanno a discapito dei cittadini vogliamo solo fatti concreti l'istituto alberghiero di Gela attraverso insegnamenti teorici e pratici si propone di realizzare la formazione di giovani da inserire immediatamente nel mondo del lavoro attraverso un diploma statale il percorso di studi che la scuola propone è costituito da un biennio di area comune di indirizzo comune e successivamente alla fine del secondo anno i giovani hanno la possibilità di scegliere un indirizzo uno dei tre indirizzi da noi proposti l'indirizzo di enogastronomia di sale e vendita e accoglienza turistica a conclusione del terzo anno viene rilasciata la qualifica è una qualifica regionale poiché l'istituto è accreditato come ente dalla regione come ente per il rilascio della qualifica e poi si prosegue con il quarto e il quinto anno sempre seguendo l'indirizzo scelto al terzo anno si conclude con il diploma statale e quindi la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro una importanza notevole è data anche all'alternanza scuola-lavoro perché la scuola organizza è obbligatoria intanto nel percorso di formazione per i nostri ragazzi e organizza attività di stage presso strutture alberghiere nel settore di alberghi e ristorazione a livello nazionale ma anche internazionale i progetti che noi realizziamo sono molteplici tra questi ricordiamo il progetto Erasmus i progetti sull'educazione alla salute anche progetti legati al territorio di sicurezza, di volontariato e così via l'alberghiero di Gela già dall'anno scorso ha partecipato al progetto Erasmus insieme ad altre scuole quindi in partenariato sono partite delle ragazze sia del commerciale che dell'alberghiero e sono andate a Derri per la lingua inglese e a Bordeaux per il francese si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro e quindi i ragazzi l'hanno frequentato un corso, una settimana di corso linguistico sia di francese che di inglese e poi le restanti quattro settimane hanno lavorato in delle aziende in delle strutture che prevedevano il loro indirizzo professionale per esempio l'accoglienza quindi come guide turistiche in ristoranti e così via anche quest'anno come gli anni passati ci accingiamo ad arrivare alla stagione estiva con l'alternanza scuola-lavoro nonché il fiore all'occhiello della nostra scuola sono appena ritornato da Milano proprio in questi giorni perché ho chiuso due grosse convenzioni con due grossi tour operator e grazie a queste convenzioni noi oggi possiamo contare circa 80 alunni che lavorano in grossi prestigiosi tour operator a livello mondiale quindi continuiamo la nostra esperienza cercando di offrire opportunità di lavoro ai nostri alunni che poi diciamo che è il nostro obiettivo finale la scuola secondaria è molto importante per la vita di futuro oggi stiamo presentando la scuola vocazione e vi vogliamo raccontare un po' di parole in inglese per farvi capire l'importanza di lingua in nostra scuola è una scuola molto interessante basata sui elementi culturali e scientifici ma anche fondata di una base vocazione con la indicazione europea e un'indicazione la scuola specifica sono hotel management kitchen management bar e restaurant for a linguagist we are studying inglese e franzo oggi a elegire la scuola superior è una cosa molto importante per la vita e per il futuro noi presentiamo la nostra scuola che si dedica soprattutto all'hostaleria e restaurazione e anche diamo molta importanza a 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 di l'anguag esta con inglese e franzi fondamental importanza c'è da al progetto di formazione alterna scuola trabajo dove i giovani possono experimentare con sus mani le realità del giovane di la nostra area il nostro plan di studio se basa con una formazione di 5 anni il bienio è comune a tutte le direzioni poi preferono il sector Il tuo futuro è l'istituto alberghiero. Il tuo futuro è l'istituto alberghiero.